Buongiorno, buongiorno, ed eccoci qui con un pezzettino di video blog della nostra cavalcata alla Ludigiana, 299.22, abbiamo un percorso di nuova 5,5 km e ci stiamo un pochino scaldando, oggi sono il numero 32, bella viscidina, però oggi è una bella giornata, è un po' freddino c'erano le macchine bianche e vidurina, è stata fredda stano riprendo il video blog per elencare i partecipanti Tilly, Alberto, Paffo, Diego, Nick, ciao Fulvio Fulvio non saluta, fa solo fumo, a dopo Senti, amici di impestati, lo scavatino, il che arriva Piano, quest'anno rispetto a quella del 2021 che è e basta, vai vai vado non ce la fai Aspettiamo Aspettiamo anche dentro 13 o 14 puoi esagerare, andiamo al cambiotto eccomi qua ho ritornato il mio vlog un pezzo circondato da Deutschland u Beraldis grazie grazie raggiunti raggiunti raggiungo i miei amici catenacci raggiungo i miei amici catenacci in questo viscidume in questo viscidume bani ste corne vado vado in questo vado lo si 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 stiamo di parola ho spesso questo è tutto non non no no ehi tutti i ragazzi grande schiaise grazie siamo qua nel primo punto di pausa a circa di un quarto del percorso e ripartiamo il bel sentierino che mi ricordo qua e in seraci e qui siamo appena scesi da un punto lento 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 siamo alla valletta che non è la capitale di Malta per questo è abbastanza vicino non c'è tanta tempo Murio è proprietario anche di un 6 tempi vediamo solamente al chilometro 26 e qui e qui Sì, è vero. che bello, fuori farlo, questa zona è abbastanza infattata che spattersi fuori qua fuori là formula ho cresciato il destro ore 12.07, 41 chilometri mi chiesa è scavata grazie 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 Eccoci, appena ripartiti dopo la sosta Prendiamo il passato, andiamo a scuola che si fa Pagliano, cartone di Pignizzano Eccolo, mica male E qua arriveranno le parti un po' tecniche Paglio se già piantate Di avventura Però non voglio neanche schiantarmi Roccia Kilometro 56.8 Se fuori da Bernardini e sarà già arrivato a 3.4 E' scabia Eccoci Siamo a spesso un po' più di altura La girata 63 km e mezzo E' scabia 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 bene visti a Nedelevene qua dentro un po' di musica inerica e c'era Nedelevene non c'è nulla Ieri non so se ci torneremo dentro non so se ci torneremo non so se ci torneremo non so se ci torneremo dentro non so se ci torneremo dentro non so se torneremo dentro non so se torneremo dentro se prendi velocità qua non ce la fai non so se torneremo dentro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.